La ricerca è importantissima, specialmente in radioterapia, qui all'Istituto Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Per noi la ricerca è cruciale, soprattutto nel paziente oncologico. Qui siamo nel Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata, un dipartimento dedicato alla cura con precisione del tumore. Ma questa cura è affiancata in modo parallelo da una ricerca molto intensa. Dovete pensare che circa la metà dei nostri pazienti fanno parte di studi osservazionali, retrospettici o prospettici, che hanno la finalità di migliorare le qualità di cura. Infatti il nostro principale intento è quello di ottimizzare i risultati, ma nello stesso tempo cercare anche di minimizzare gli effetti collaterali. Quella che vedete alle mie spalle si chiama Unity ed è un'apparecchiatura unica in Italia. Abbiamo l'onore di avere nel nostro istituto di ricerca questa apparecchiatura che ha una caratteristica fondamentale, quella di incrementare, aumentare, migliorare i livelli di precisione in radioterapia. E questa è proprio una nostra linea di ricerca, perché vogliamo mantenere alti i livelli di cura migliorando la tollerabilità dei trattamenti anche molto complessi, spesso associati alla chemioterapia o ai trattamenti farmacologici o spesso che susseguono l'intervento chirurgico. Non c'è cura senza ricerca e noi pensiamo che in ambito oncologico questa frase sia più valida che mai.